Siamo senza parole ragazzi, sono senza parole ragazzi. Dai Matteo, dai Berretto, dai Berretto. Abbiamo vinto l'ATP 250 di Gishtad. Nel giro di una settimana abbiamo vinto tre titoli. Fognini e Bastad, Cecchinata Domago e soprattutto Berrettini. A Gishtad, un titolo incredibile, forse il più inaspettato. Un Berrettini fantastico, fantastico, ha dominato anche oggi con il numero 17 del mondo. Roberto Bautista Gut, specialista di questa superficie, un cagnaccio come lui. Non è mai facile da battere, soprattutto se imposta la partita tirando sul rovescio di Berrettini. Ma colpo che ormai Berrettini ha già migliorato, è vero. Forse è un po' più scarso del suo diritto, però grandi, grandi, grandi progressi sul rovescio. E Berrettini vince il suo primo titolo in carriera. Ha poco più di 22 anni, semplicemente un sogno, un sogno. Quello che sta vivendo anche il tennis italiano, è davvero un boom per il nostro movimento. Ovviamente, tanti giovani che stanno uscendo, davvero, che nei primi cento del prossimo anno se ne potrebbero avere tanti. E io lo ripeto, il prossimo anno potrebbe essere l'anno buono per vincere la Coppa Davis, ragazzi. Potrebbe essere l'anno buono, potrebbe diventare obiettivo della stagione, perché non vedo nazionali davvero più rodate e tanto più forti di noi. Davvero la si può vincere, lo deve, su Terra Rossa. Tra l'altro Berrettini vince il primo titolo in carriera sulla superficie, a lui meno con Geniale. Ma lo fa oggi con un servizio assurdo. Lui praticamente ha servito oggi la bellezza. Amici ed amiche, tenetevi forte. Ha fatto la bellezza di 17 S, di cui sei nel tie break del primo set. Incredibile, davvero. Un Berrettini che a servizio oggi ha umiliato Bowsista Gut, ma l'ha umiliato su tutti i punti di vista, davvero. Ma una freddezza incredibile, cioè vince i punti con un S. Un tenista italiano così, secondo me, non l'abbiamo mai avuto, ragazzi. Nella prossima settimana sarà il numero 54 del mondo. Secondo me adesso sarà l'Nex Gen. Si fa grande spazio. Infatti questa settimana ha battuto pure l'altra Next Gen, Andrei Rubliov. Insomma, un avversario tosto. Anche lui in cagnaccio. Eppure Berrettini l'ha battuto, ragazzi. Questo può diventare un vincitore di Slam, secondo me. Secondo me sì. Ci potrebbe regalare uno Slam. Lui che adesso ha già preso il suo primo titolo in carriera e, come si so dire, l'appetito, viene mangiando, amici. Ancora sì, negli spostamenti e nel rovescio c'è da migliorare, però, insomma, esci con la consapevolezza, Berrettini, davvero, di essere un giocatore maturo e vero. Chi so che cosa può fare davvero sul cemento americano, la sua superficie preferita, proprio il cemento, dopo questi tornei sulla Terra Rossa, dove è migliorato moltissimo. Sembrava il suo tallone d'Achille, invece, è migliorato tantissimo fino a conquistare questo titolo. Assolutamente inaspettato. Nella race è numero 42. Io ho visto un po' di partite oggi, mi ha impressionato davvero, Berrettini. Rispetto a tre mesi fa, ha fatto passi da gigante. Passi da gigante, Matteo Berrettini. E speriamo davvero che sia da Traino per tutto il tennis italiano, perché tra Seppi, tra Fognini, tra Cicchinata, Berrettini, tra Moroni, un sogno che adesso è un po' in crisi ma potrebbe continuare a crescere. Ma sono tanti, 98 buoni, balzerani, affonio, insomma, ragazzi, abbiamo un movimento che può fare, no, bene, di più, nei prossimi anni. Lasciate un like al video, condividete, lasciate un commento qua sotto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, fate iscrivere i vostri amici, mettete la campanella delle notifiche, così non vi devo avvertire quando pubblico un video. Arrivederci e noi ci vediamo al prossimo video.